Roberto Simonetti, quale novità importanti ci sono per le partite IVA Regimi Minimi? Sì, alle 4 e mezza di questa mattina, grazie all'intervento della minoranza, soprattutto di Lega Nord, siamo riusciti a convincere il Governo e i relatori della bontà della nostra proposta, che è quella di prorogare anche per il 2015 l'aliquota del 27%, l'aliquota contributiva appunto per le partite IVA sui minimi, perché con la legge finanziaria era stata portata al 31%. E questa è una grande soddisfazione per tutti coloro, tutti quei ragazzi che devono aprire la partita IVA per iniziare la loro carriera professionale e questo dà sì un vantaggio in più in termini economici in un momento in cui lavorare e avere una partita IVA è certamente difficile. Il dato politico è che se non fossi intervenuto io, il Governo e i relatori, la maggioranza, avrebbe voluto mettere un paletto su una problematica che era comune a tutti i gruppi parlamentari, cioè voleva bocciare tutti gli emendamenti presentati dalle opposizioni per poi presentare bello bello alla maggioranza, lui, un ulteriore emendamento omnicomprensivo per mettere la bandierina. Ecco, su queste cose qua io credo che ci debba essere la larga condivisione e grazie appunto allo sforzo della Lega Nord si è riusciti ad ottenere questo grande risultato. Roberto Simonetti, ora la battaglia della Lega Nord si concentra sul decreto che il Governo Renzi vuole presentare per risolvere il pasticcio sui regimi minimi. Sì, il pasticcio è dato dall'abbassamento del massimale a 15 mila e l'elevazione dal 5 al 15% della tassazione. Quindi Renzi dice di voler produrre un decreto che risolve questo problema che fa il paio con quello delle aliquote contributive che abbiamo risolto questa notte. Vediamo in questi giorni cosa produrrà e di conseguenza noi ci comporteremo. Chiaro è che così non può andare avanti perché così vuol dire ammazzare i poveri ragazzi da un punto di vista lavorativo che non trovano lavoro a tempo indeterminato come dipendenti e così non riescono ad aprirsi una propria partita di via perché è troppo onerosa.